Ciao ragazzi, ben ritrovati in questa nuova penultima puntata del corso base di Photoshop. Per tutti i nuovi arrivati, per tutti i nuovi iscritti, il termine del corso base di Photoshop non significa in alcun modo che non ci saranno tutorial di editing sul canale. Infatti al termine del corso stesso inizierà ogni martedì ad essere pubblicato un video riguardante una determinata post-produzione, un determinato editing, oppure la realizzazione di un determinato effetto e via dicendo. Allora andiamo a terminare di vedere la parte destra del software, siccome nelle puntate precedenti abbiamo guardato i livelli con tutte le loro varie opzioni e possibilità e poi abbiamo guardato i livelli di regolazione. La parte destra del software, come vedete, ha anche questa piccola barra. Sostanzialmente lì vanno inserite tutte quelle schede che per motivi di spazio, ovviamente questo può variare in base alla dimensione del vostro monitor, non ci stanno estese qui a destra. Oppure sono delle opzioni aggiuntive per determinati strumenti, per esempio, qui abbiamo stile carattere. Sono tutte cose che io mi sono andato ad inserire, chiaramente manualmente, per inserirli se vi servono. Qui abbiamo per esempio, vedete, il menu rapido per quanto riguarda le font, qui abbiamo tutte le impostazioni per quanto riguarda il paragrafo, qui abbiamo le informazioni, insomma, fate finestra e vi aprite quello che vi serve. Per esempio, vi servono i campioni, che in realtà abbiamo già lì, però clicchiamo su campioni, ora appunto, avendolo già in questa zona, semplicemente si è aperto. Però chiaramente io, avendo un monitor abbastanza piccolo, abbastanza limitato, sono costretto sempre a, con un doppio clic, ridurlo. Quindi potrei, per esempio, trasportarlo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, in questa zona e li ho facilmente e posso chiaramente andare a modificare dopo la dimensione, posso modificare tutto quello che mi interessa. Quindi ho sempre la possibilità di avere a portata di mano gli strumenti che utilizzo di più. Se una scheda la aprite per errore e via dicendo, basta andare su finestra e togliere la spunta, per esempio, di colore, non la vogliamo, quindi la togliamo e siamo a posto così. Insomma, questo mi sembra abbastanza intuitivo, abbastanza semplice. Chiaramente tenendo premuto il tasto sinistro potete anche, eventualmente, ordinarli. Ora passiamo alla parte superiore, dove abbiamo appunto il nostro navigatore e il nostro histogramma. Allora, il navigatore altro non è che una sorta di lentino, quindi se noi zoomiamo in questa zona dell'immagine, quindi utilizzando questo slide, abbiamo qui una percentuale. Possiamo eventualmente anche andare a scrivere noi una percentuale e poi tenendo premuto possiamo appunto andare a navigare per la nostra immagine. È molto molto semplice. Con command 0 oppure visualizza, adatta allo schermo o 100%, possiamo appunto o adattare l'immagine allo schermo oppure vedere l'immagine nella sua interezza senza sgranature. Quindi al 100% così, oppure al 200% se stiamo facendo lavori di precisione, oppure con command più, command meno, oppure ctrl più o ctrl meno, con Windows possiamo andare a zoomare e dezoomare velocemente. Command 0 adattiamo allo schermo, command 1 rendiamo al 100% la visualizzazione della nostra immagine. Quindi il navigatore serve semplicemente per questo. Mentre l'istogramma è molto molto importante in fotografia. Al momento ve lo spiego proprio breve breve, poi sicuramente uscirà una puntata ad hoc nel quale ce lo studieremo per bene. Ad ogni modo dovrei averne già parlato qualche video addietro, quindi fate una ricerca nel canale. L'istogramma sostanzialmente sono tutte quelle frequenze, tutte quelle onde, quei colori, quei contrasti, luci, ombre, mezzi toni che compongono la nostra immagine. Imparare a leggerlo è fondamentale per avere la possibilità di poter eventualmente valutare un'immagine anche quando per esempio stiamo scattando all'aperto perché chiaramente l'istogramma lo troviamo anche sulle macchine fotografiche però il sole o qualche luce fastidiosa non ci permette di vedere effettivamente se la foto è corretta o meno. Nel momento in cui noi impareremo a utilizzare l'istogramma che è a livello concettuale molto semplice ovvero abbiamo la prima zona che rappresenta le ombre, abbiamo la zona centrale che rappresenta i mezzi toni e abbiamo la zona finale che rappresenta le alte luci infatti questa per esempio chiaramente è una grafica e quindi abbiamo tantissimo bianco all'interno della nostra immagine e chiaramente vediamo che ci sono dei picchi proprio nella zona delle alte luci. In più tutti questi piccoli picchi che vediamo qua e là sono semplicemente tutti i vari colori che vanno a comporre la nostra immagine. Provate per esempio a caricare una fotografia e vedrete che il risultato è completamente differente. Allora non esiste il giusto e lo sbagliato nel senso che in base alla fotografia dobbiamo poi valutare e leggere l'istogramma. Vi faccio un esempio. Una foto normale con fondo misto e via dicendo potrebbe essere corretta nel momento in cui la zona centrale dei mezzi toni è ricca di informazioni e dalla zona iniziale delle ombre e la zona finale delle luci abbiamo una sorta di salire per quanto riguarda le ombre e scendere per quanto riguarda le alte luci. Questo significa che non abbiamo delle zone di nero puro e non abbiamo delle zone di bianco puro. Però chiaramente ci sono casi e casi. Ora vi faccio un esempio veloce. Muro bianco ovviamente avremo una zona di bianco puro. Potrebbe assolutamente esserci. Quindi quello non sarebbe un errore. Però dobbiamo saperlo. Oppure abbiamo per esempio realizzato una foto agli alberi. Tra gli alberi si intravedeva il cielo che per un motivo o per l'altro di impostazione risulta poi bruciato. Quindi chiaramente avremo del bianco puro. Oppure foto davanti a un fondo nero o a un fondo scuro potremmo avere comunque sia magari non un nero pieno ma lì vicino. Quindi a grandi linee il concetto è questo. Su Photoshop a mio parere funziona e serve tanto quanto serve sulla macchina fotografica. Quindi aspettate presto un bel approfondimento sull'istogramma in modo che poi possiate eventualmente utilizzarlo e aiutarvi anche con Photoshop. Per concludere in bellezza questo video e poi vi rimando alla prossima puntata ovvero l'ultima che uscirà martedì prossimo dove andremo ad analizzare un po' i principali menu superiori vi mostro i righelli e le guide. Allora i righelli chiaramente sono questo e questo quindi verticale e orizzontale mentre le guide sono queste linee azzurre. Ora vi spiego a cosa servono però prima di tutto dobbiamo avere i righelli. Allora quando apriamo Photoshop generalmente l'opzione non è abilitata quindi dobbiamo abilitarli noi. Io ve lo straconsiglio perché tornano veramente molto molto utili anche solo per avere un punto di riferimento o avere una facilitazione nei lavori di precisione. Quindi basta cliccare su visualizza qui chiaramente vediamo che abbiamo righelli che si può fare anche con command R nel caso di Mac oppure CTRLR nel caso di Windows lo spuntiamo nel caso non sia spuntato e ci appaiono. Nel momento in cui noi andiamo a trascinare tenendo premuto il tasto a sinistra da un righello in giù vediamo che rilasciando si crea una guida. Le guide a cosa servono? Le guide chiaramente non sono delle linee vere e proprie che abbiamo sull'immagine. Semplicemente sono delle guide che vengono create dal software noi le vediamo solamente a livello virtuale diciamo e ci permettono di allineare per esempio un collage fotografico oppure la realizzazione di una grafica oppure controllare se effettivamente l'orizzonte della nostra immagine necessita di essere ruotato in senso orario anti-orario di mezzo grado e via dicendo. Quindi concettualmente servono a quello. Nel momento in cui noi ne realizziamo una, due quante ne volete senza problemi e non ci serve più basterà andare con lo strumento sposta attivo sopra la guida vediamo che si modifica il cursore teniamo premuto e torniamo sul nostro righello. In questo momento la guida è stata completamente eliminata infatti anche se dezumbiamo vediamo che con la guida non c'è più. Quindi davvero molto molto semplici e a mio parere davvero utili. Per quanto invece riguarda ve lo faccio vedere ora almeno ci portiamo avanti siccome c'è da spendere un paio di parole la funzione di allineamento perché chiaramente queste guide possono calamitare degli elementi vi faccio un esempio mettiamo caso che questa sia una fotografia noi come possiamo vedere solo avvicinandoci alle guide si vanno ad incollare si vanno a calamitare. Come è possibile realizzare appunto questo effetto questa facilitazione? Cliccando su visualizza e andando su prima di tutto spuntare allineamento perché è fondamentale poi allinea e qui scegliamo quello che ci serve io ho spuntato ora guide, livelli e limiti documento nel senso che generalmente lavoro con tutte le possibili calamite attive però se in quel momento vi è scomodo oppure non vi permette di allineare precisamente un oggetto perché magari avete tanti oggetti qua già siamo verso una parentesi più grafica che fotografica basta semplicemente deselezionare il menu allineamento e vediamo che si tolgono tutte quante senza alcun tipo di problema vedete ora è completamente libero quindi non abbiamo più alcun tipo di allineamento nel momento in cui invece facciamo visualizza allineamento si calamitano ora magari da video non riuscite proprio a vedere bene l'effetto però vi assicuro che si calamitano senza problemi anche per esempio nella zona centrale vi mostra questa linea viola quando andate ad avvicinarvi con un elemento potete capirlo facilmente quindi spero che questo video vi sia servito se avete domande commenti opinioni di qualsiasi tipo scrivetele pure qui sotto nei commenti noi ci vediamo martedì prossimo con l'ultima puntata riguardante il corso base di photoshop ci vediamo domani con fotografia in pillole e poi ad andare con tutta la programmazione estiva del canale che trovate direttamente in questa immagine io vi ringrazio per la visione vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce grazie a tutti grazie a tutti